Un cumulo di autorizzazioni da chiedere e ottenere, poco tempo a disposizione per mettersi in regola e ottemperare le nuove disposizioni sulla sicurezza. Dopo 13 anni salta la festa del ringraziamento entro d'acqua che era in programma per domenica 11 novembre. Una notizia che ha colto di sorpresa quanti danni non aspettavano altro che immergersi in quella atmosfera tipica di uno dei borghi più belli d'Italia. Il consueto tuffone è passato fra sapori e antichi mestieri, storia e tradizione. Nulla di tutto questo perché quest'anno la festa è stata annullata, colpa delle normative stringenti che richiedono spese ingenti, tempo, mole di lavoro per essere applicate. Ed è così che i piccoli comuni vengono messi in ginocchio. Nonostante l'alleggerimento della famosa circolare Gabrielli, a quanto pare per le associazioni che operano nei piccoli centri, ostacoli e difficoltà da fronteggiare non sono venute meno. L'evento non si svolgerà per difficoltà tecniche e di tempistica incontrate in ordine all'adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza negli eventi. L'associazione si scusa per questo inconveniente e vi dà appuntamento alle prossime manifestazioni hanno fatto sapere da futura. Un imprevisto dell'ultimo minuto che deve comunque portare gli addetti ai lavori e non solo a una riflessione. L'invito che arriva da qualche componente dell'associazione futura è quello di radunare le varie associazioni per addivenire a una seria proposta a difesa dei centri più piccoli che non possono seguire la stessa trafila burocratica di eventi e manifestazioni di ampio raggio. La festa del ringraziamento si ferma.